Di etichettatura si è discusso nella sede zonale della Coldiretti alla presenza del segretario di zona Franco Savarino e del direttore provinciale Gerardo Forina. Si è trattato di un incontro con i giovani imprenditori ed imprenditrici agricoli per discutere sulla recente normativa emanata dall'Unione Europea riguardante come accennato l'etichettatura degli alimenti. La nuova normativa, ha sottolineato Savarino, è frutto di un compromesso tra la Commissione Europea, Consiglio e Parlamento Europeo e giunge dopo quattro lunghi anni di sollecitazioni e richieste avanzate dalla Coldiretti per contrastare le emergenze alimentari dall'influenza aviaria e maiali alla diossina, le mozzarelle blu fino al batterio killer. Sostituisce una vecchia direttiva del 1979 ed essente l'obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche, dai suini agli avicoli o vini, al pari di quanto era già stato previsto per le carni bovine dopo l'emergenza della mucca pazza. Il regolamento comunitario sull'etichettatura introduce l'obbligo di indicare informazioni nutrizionali fondamentali ed impatto sulla salute dei consumatori. Nonostante i risultati ottenuti sull'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti in etichetta, purtroppo il regolamento comunitario prevede un percorso a tappe per alcune categorie di prodotti come le carni trasformate in salumi e il latte e i suoi derivati. Questa incomprensibile scelta da parte dell'Unione Europea continuerà a fare aumentare sempre di più il fenomeno dei prodotti contraffatti o cosiddetti falsi. Questi prodotti agroalimentari producono ogni anno un giro di affari di oltre 60 miliardi di euro. Era necessario porre un rimedio a questa situazione, da qui la scelta di Coldiretti di creare un progetto per il Paese, realizzando attraverso la Fondazione Campagna Amica una filiera agricola tutta italiana a salvaguardia del Made in Italy agroalimentare.